Il maresciallo Ortolani, era così che lo chiamavano i suoi concittadini, da pensionato si ritirò per sempre a Mistretta, dove svolse tutta una serie di attività, politiche, culturali e sociali. Fondò il sindacato dei lavoratori e pensionati autonomi, fu difensore indefesso del patrimonio artistico amastratino. I suoi obiettivi erano questi, riqualificare il passato storico della città attraverso la raccolta di reperti archeologici ritrovati in luogo, prima che finissero in qualche discarica, ricercare siti e reperti archeologici da riportare alla luce, conservare il patrimonio artistico pubblico e privato della sua Mistretta, che oggi si scopre essere un museo vivente di pietra. Ortolani cominciò a credere a questo progetto sin dal ragazzo. Per il raggiungimento di tali obiettivi spesso si scontrò con privati, amministratori pubblici, clero, imprenditori edili. Il cavaliere di Vittorio Veneto, Egidio Ortolani, titolo da cui per tutta la vita si sentì gratificato, visse in prima persona quel massacro all'arte, a cui dichiarò guerra spietata. Era di fatti in grado di occupare un cantiere di lavoro pur di salvare elementi architettonici importanti o reperti archeologici. Le sue armi preferite furono la macchina fotografica e la penna. Tutti lo temevano e lo odiavano, ma contro lo strapotere e le lungaggini burocratiche anche egli ha potuto ben poco. La figura del cavaliere Egidio Ortolani è fondamentale, non solo per Mistretta ma per tutto il comprensorio. A me piace, quando ci sono questi incontri, parlare a carattere generale di archeologia nebroidea. Ciò non toglie che per la città di Mistretta, Egidio Ortolani è un po' lo geliman della situazione, il pazzo in senso buono visionario che con l'amore dell'archeologia racconta la storia di Mistretta così come noi non la conoscevamo. Perché il senso è, e oggi la platea è più che altro costituita da ragazzi, far capire a loro, ma a tutti i cittadini, che quei popoli che leggiamo sui libri di storia, i greci, i romani, gli arabi e i normanni, sono stati anche a Mistretta. E quindi il vantaggio che deriva dall'azione del Cavaliere Egidio Ortolani è proprio quello di aver portato le prove tangibili, la maggior parte delle quali oggi si trovano al Palazzo Mastro Giovanni Tasca. E' in memoria di questo nostro illustre concittadino che l'Associazione Proloco di Mistretta ha voluto dedicare la quinta edizione del trittico amastratino proprio ad Egidio Ortolani, il maresciallo archeologo, evento che si è svolto il 19 dicembre presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa, dove hanno potuto prendere parte anche gli studenti amastratini.